Si chiama Flamingo Air ed è una compagnia aerea di charter americana di base a Cincinnati, città degli stati Uniti d'America. Da quasi vent'anni ella offre la possibilità di riservare dei posti molto speciali su alcuni piccoli aerei di tipo privato. Il servizio prevede l'allestimento di baldacchine molto comodi, a partire da sedile ed anche una offerta di cioccolato e champagne. Ogni volo particolare costa in media sui 475 dollari, poco più di 400 Euro. La clientela è formata per lo più da persone o meno coppie da 35 anni in su. La racconta David McDonald, numero uno della compagnia aerea in questione, che ha detto di solito apprenotare sono le donne, questo dimostra che è qualcosa che affascina molto, soprattutto il genere femminile. Il nostro periodo migliore è proprio quello di San Valentino, il 14 febbraio. Dobbiamo riservare almeno 10 punti. Pensate che sarà incredibile. Beh, dunque fare sesso in questa compagnia aerea o la faminga è possibile. Molti utenti, molte persone che desiderano fare sesso, dunque adesso potranno sapere a chi rivolgersi. Un saluto, iscrivetevi e a...